Prova a cercare Misty May a caccia dell'oro. Mi raccomando, le virgolette. Mi sto organizzando per un viaggio. Ho bisogno di andarmene, stare un po' per quanto mio. Hai capito il concetto? Quindi è finita? Hai chiuso con il tuo piccolo esperimento con Foreman? Non è stato un esperimento, è stata una relazione. Non so se vedi la differenza. Sono felice che tu stia meglio. In effetti mi piaceva lavorare con te, ma non tornerò più. Bene, perché se tornassi Foreman cercherebbe di salvare il rapporto e non farebbe più il capo. Sei qui per cercare di salvare il mio rapporto con Foreman? Santo cielo, no. Cerco di salvare il mio rapporto con lui. Al momento sono Kobe. Gioco al gioco che adoro, esattamente come voglio. E Phil Jackson deve beccarsi quelli che si lamentano. Goditi il capo verde. Vado in Thailandia. Davvero? Interessante. Ci vediamo, Hans. Ci vediamo, 13. La settimana... Grazie. Ciao.